Ciao a tutti ragazzi da Zebra, buonasera, buonasera, stasera ragazzi non ci sono molti argomenti, però uno in particolare mi ha preso, perché comunque si comincia a parlare e si deve parlare, perché comunque abbiamo bisogno, in una stagione lunga, una stagione piena di competizione, abbiamo bisogno comunque di un sostituto di Bremer, di Bremer ragazzi, e quindi cominciano i primi nomi, questi nomi che dovrebbero essere poi pian piano sfortiti per prenderne uno, a gennaio, possibilmente a gennaio dovremmo fare qualcosa, e non solo in difesa, ma questo poi ne parleremo in un altro video, in cui ci saranno nomi, e stanno cominciando a uscire nomi importanti, anche per un possibile, e perché anche lì in un reparto in cui già quest'estate doveva essere puntellato, ma precisamente non è stato fatto, e quindi parliamo di un vice Vlaovic, ma in questo caso voglio soffermarmi su un possibile sostituto di Bremer. Allora ragazzi, qui, prima di continuare, io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, ragazzi, che è importante, grazie se lo farete. Parliamo di Ortiz, 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 Leo Ortiz, un giocatore che in questo momento gioca nel campionato brasiliano, e precisamente Forza al Flamengo, ha 28 anni, centrale difensivo, parlano benissimo di questo calciatore, un giocatore che ha un livello tecnico abbastanza importante, ma ha anche una clausola recessoria, e quindi il suo contratto scadrà, purtroppo ragazzi, perché c'è da dirlo, questo credo che gira intorno a tutto questo discorso, scadrà nel 2028, 2028, una clausola da 30 milioni di euro, 30 milioni di euro. Ora, ora, il mio video è girato intorno a tutto ciò, per carità, un giocatore importante, un giocatore che sicuramente se ha quel tipo di valore, sconosciuto, non è che è conosciuto ragazzi, è sconosciuto, ma sicuramente se vale quei soldi, è comunque giuntoli, già da tempo, io so che già da tempo giuntoli seguiva questo calciatore, non da oggi, vuol dire che ha una sua valenza, una sua importanza. Però, 28 anni, spendere 30 milioni di euro per un giocatore, che poi, su questo, ci sono due discorsi da fare. Il primo è, non so un po' troppi i 30 milioni per un 28enne, però è già pronto. È già impostato. Bisogna rifletterci su questo, perché alcuni ho sentito che hanno discusso sulla sua età, spendere quei soldi. Però ragazzi, a 30 milioni, un difensore è già pronto, maturo, perché a 28 anni si è calcisticamente maturi. Dove lo trovi? Per sostituire un centrale difensivo come Bremer. Cioè, non andrà a sostituire l'ultimo arrivato, non è l'ultimo arrivato Bremer. Quindi, comunque, lo devi sostituire uno di livello. Se vuoi uno di livello europeo o internazionale, non lo paghi 30 milioni, non credo che tu vada per 30 milioni, a meno che non prendi uno svincolato, ma non credo neanche. Sì, giovani, va benissimo, ma tu hai bisogno lì di una pedina fondamentale come quella che poteva essere Bremer. Quindi, 30 milioni li spenderesti per un giocatore come lui? Non lo so. Io ho i miei dubbi, anch'io, raga, anch'io. Soprattutto la Juventus, come versa a livello economico. Non è che la Juventus a livello economico sta da Dio. e quindi può permettersi di spendere 30 milioni. L'altro punto, quello che per me è importante, è quando rientrerà Bremer? Che succederà? Dovrà esserci... bisognerà fare spazio? Non è detto, perché noi sapevamo benissimo che la Juventus era in cerca di un difensore. Poi si è accontentata. Quindi, in futuro, cosa succederà se dovesse fare un investimento del genere? Non credo che lo puoi mandi via. No? Certo, il punto interrogativo è come ritornerà Bremer? Come sarà di nuovo Bremer? E questo, ragazzi, è fondamentale anche questo. Importante. Capire come rientrerà Bremer. Sarà agli stessi livelli? Questo, raga, non lo possiamo sapere. Ma l'unico modo è vedere questo calciatore, se dovesse approdare la Juventus, di che pasta è fatto, di che cosa ha in più questo calciatore per avere questi soldi. E comunque, se un giocatore è valido, anche se ha 28 anni, e noi sappiamo che un giocatore ha 28 anni adesso è pieno della maturità, e comunque può avere quei 4-5 anni, raga. Li può avere benissimamente. Se il ragazzo è integro, fisicamente sta bene, io non vedo nulla di strano. Quindi, 30 milioni sono tanti? Forse sì, ma forse no. Ditemi cosa ne pensate voi. Un giocatore che, ragazzi, è da tempo che è un po' il centrale che ha la Bremer. Eccola, mettiamolo così, alla Bremer. Ditemi cosa ne pensate voi. Alla prossima, ciao, ciao.